Se c'è, ripeto, dietro a questi movimenti poco corretti, poco sensibili al Teramo Calcio, lo ripeto, può telefonarmi in qualsiasi momento, dieci minuti e si sistema tutto e per quando vogliamo bene al Teramo gli saremo anche il primo sponsor, quindi con tutto il cuore senza nessun problema. Queste sono le condizioni per cui io posso rimanere ancora, fin quando lo volete voi, ad essere o a fare il Presidente del Teramo e questa è una cosa che devo e voglio sapere prima del 23 oppure il giorno dopo del 23, perché? Perché se dobbiamo ripartire dalla promozione io ci sono, non scappo, altrimenti purtroppo non posso lavorare, siccome lavorerei molto male. molto male, molto male, quindi siccome ripartirei molto male senza entusiasmo che il perno portante di un tipo di attività, perché questa è un'attività a tutti gli effetti, voglio che tutti quanti, non che gli ultra qui non ci sono. Se noi oggi vogliamo ripartire e dobbiamo ripartire tutti insieme, dobbiamo dare a tutta la provincia, a tutta la regione un modo che Teramo dovrà essere un modello di stare tutti insieme per vincere. Questo è il mio motto, altro non devo dire, 8 giorni, 8 per decidere il da farsi. Ma con tutto, lo dico con tutto il mio cuore, sarò il primo sponsor per chi verrà anche questa sera dopo di noi. Quindi se lo sponsor vale 500 mila euro, noi siamo disposti a mettere 500 mila euro all'anno, senza problemi.